Se volete, potete chiudere gli occhi. Che fai tu, luna in cielo, dimmi che fai, silenziosa luna, sorgi la sera e vai contemplando i deserti indiposi, ancor non sei tu paga di riandare sempre termi caldi, ancor non prendi a schifo, ancor sei vaga di mirare queste valli, somiglia la tua vita alla vita del pastore, sorge in suo primo albore, muove la greggia oltre per il campo e vede greggi, fontane ed erbe, poi stanco si riposa in sulla sera, altro mai non gli spera, dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita, la vostra vita a voi, dimmi, ove tende questo vagare mio breve, il tuo corso immortale. Vi voglio confessare una cosa, perché vedete il mio talk non doveva iniziare così, sapete dietro a questi discorsi c'era un sacco di preparazione e io ce l'avevo pronto, era fatto, funzionava, almeno mi hanno detto così, avevo una domanda da spararvi subito in faccia, dritto, sapete, tecniche di ricordica, queste cose così. Poi per non so quale caso ho studiato proprio in questo periodo a scuola Leopardi, ho conosciuto così Giacomino e proprio leggendo questi versi magnifici che adesso abbiamo ascoltato insieme, io ho riletto nelle sue parole la mia stessa domanda, com'è possibile? Leopardi, un genio assoluto, io, persona qualsiasi, la stessa domanda, com'è possibile? E mi sono dato una risposta, perché vedete, ho detto, noi siamo sempre stati noi, l'uomo è sempre stato uomo e io Davide, persona qualsiasi e Leopardi e tu che stai in prima fila e lui e l'operaio che ha costruito questo posto, condividendo la nostra umanità ci siamo fatti le stesse domande. Per questo fatto di essere uomini, di stare tutti qua a vivere questa vita, ci siamo domandati prima o poi, dove stiamo andando? E questa è la domanda con cui io volevo partire, dove stiamo andando? Ove tende questo vagar mio breve? E per spiegarvela vi racconto la sua storia, perché è una storia. Dunque, ero in classe, vedete, sono uno studente, ho 18 anni, sto all'ultimo anno del liceo e mentre ero in classe e pensavo proprio a questo, a ripetersi delle mie giornate una dopo l'altra, perché vedete, io riesco a ricordarmi perfettamente quello che ho pensato in quel momento ed è quello che adesso vi andrò a raccontare, però non riesco a ricordare quale lezione fosse. Il perché ve lo dico subito, perché io assisto a una lezione 5 o 6 volte al giorno, tutti i giorni della settimana, tranne che uno, da otto anni, senza contare gli elementari. Quindi la ripetitività nelle mie giornate, io pensavo proprio a questo, mentre stavo là, il luogo che vedo tutti i giorni, mentre ormai mi astraevo e la voce del professore che non faceva che da sottofondo all'andare frenetico dei miei pensieri, mi ha sorto proprio questo dubbio, ma dove stiamo andando? Cioè, cosa sto facendo io in questo momento? Che cos'è che mi spinge ogni giorno ad alzarmi e a fare la stessa cosa, a venire qua? Qual è il senso? Ce lo siamo domandati in tanti, perché alla fine questa domanda, se astraiamo giorno dopo giorno, la vita. Qual è il senso della nostra vita? Dove tende la nostra vita? A cosa ci porta? Cosa sto facendo io in questo momento? Vedete, quando un'azione diventa abitudinaria, rischiamo certe volte di dimenticarci perché la facciamo. Qual è il senso di questa azione? Mi viene un esempio con gli insegnanti, perché siamo in questo ambito. Ci sono degli insegnanti, mi potete alzare le mano? Ok, perfetto. Beh, anno dopo anno, le lezioni, non vi offendete, sono quasi sempre le stesse, ma non perché le lezioni sono le stesse, perché gli argomenti da insegnare sono quelli. E io penso che sia capitato anche a voi, mentre facevate una lezione, che magari avevate ripetuto solo qualche ora prima un'altra classe, o anche sei mesi prima, vi siate un attimo distratti, fermati anche soltanto col pensiero, mentre andavate e vi siete chiesti, che sto facendo? Ha un senso questa cosa? Ma vedete, vale per tutto, quando una cosa diventa automatica. Per esempio, quando, ci avete mai fatto caso, quando ripetiamo una parola tante volte consecutivamente, una dopo l'altra, che poi non riusciamo più a ricordarci che cosa significa, non associamo quella parola, quel suono, al suo significato? Io credo che sia successo a tutti. Beh, è di questo che sto parlando. E vedete, quello che ho pensato io in quel momento a scuola è che noi ci giriamo indietro e vediamo la nostra strada già tracciata, il percorso che noi abbiamo messo faticosamente in piedi, passo dopo passo, come se fosse stato disegnato da qualcun altro, qualcuno che ci ha detto e continua a dirci ogni giorno cosa dobbiamo fare. Alzati la mattina, vai a scuola o lavoro che sia, abitudini, poi trovati un posto nella società, devi andare all'università, trovati un mastro, una specializzazione, fai gli straordinari, porta a casa un lavoro, matrimonio, figli, abitudini, abitudini, abitudini e ancora però ho pensato un'altra cosa. Se io vi dicessi ora che questo non è vero, che questo ragionamento è fallace, è falso, è sbagliato, o meglio, in realtà è vero. È vero finché rimaniamo chini sulle nostre scrivanie e non portiamo il nostro sguardo più avanti del nostro naso. È vero finché rimarremo concentrati su quella piccola, minuscola macchiolina che sporca la nostra scarpa. Ma se noi alziamo lo sguardo dai nostri piccoli affanni, dai nostri piccoli affari quotidiani e ci rendiamo conto di quello che abbiamo intorno, di essere inseriti in un contesto molto più grande, vedete anche quella strada di cui parlavo prima ci sembrerà diversa. Se noi davvero riusciremo a vederci come soltanto un piccolo tassello all'interno di una visione molto più grande, all'interno di un contesto come i puzzle, un pezzettino piccolissimo che è inserito all'interno di un puzzle però quasi infinito. Quel pezzettino da solo non ha senso. Anche il puzzle però, tutto il resto senza quel pezzettino non ha senso. Allora noi dobbiamo fare, dobbiamo allargare la visione, è questo il punto, allargare la visione come quelle riprese aeree. Non so se ce le avete presenti, riprese aeree fatte dai droni che partono però da un particolare stretto, da un primo piano magari e poi vanno allargandosi, salgono, salgono e inglobano prima una strada, poi una città intera, poi escono il paese, il continente e alla fine escono dal mondo. Bellissime. E tu vedi il nostro mondo da un altro punto di vista. Noi dobbiamo fare così. Cambiamo prospettiva e cambieremo approccio. Vedete, quello che intendo, cosa sono i nostri piccoli mali, i nostri piccoli affari quotidiani in confronto con la grandezza totalizzante del mondo? Possiamo davvero noi confrontarci, che so io, con le ingiustizie che avvengono in Siria, in Palestina? Si parla tanto di migranti, si sparla tanto di migranti. Gente che lascia il proprio habitat naturale, la propria casa, sapendo di andare incontro alla morta praticamente. Perché parliamoci chiaro, la speranza è poca. Però noi continuiamo a essere concentrati sui nostri piccoli affari, i nostri piccoli affanni. Vedete, Hegel, so che a molti non piace, diceva una cosa, ciò che è reale è razionale. Cioè, tutto quello che c'è, c'è perché deve esserci. E quindi la realtà è perfetta così com'è. Ho capito, però esiste il male, è vero. Ma anche quello fa parte della visione. Anche quello fa parte del tutto. Non ha senso il tutto senza il particolare, non ha senso il particolare sempre senza il tutto. Citazione, ultimo lo giuro. Ciao, bigliettino come a scuola. Saluto le prof. E ti sono tersani. Ci vuole un senso di sé che non sia quello piccino della carriera e dei soldi. Che sia il senso che sei parte di questa cosa meravigliosa che è tutta qui attorno a noi. Il nostro orizzonte è il mondo. Ecco un altro in cui io ritrovo dei pensieri miei. Il nostro orizzonte è il mondo. Ecco cosa dice Tiziano Dersani. E allora, se il nostro orizzonte è il mondo, torniamo a quella storia là, quel ragazzo che sta in classe. La scuola? La scuola diventa uno strumento. Perché se noi capiamo che il nostro orizzonte non è la scuola, ma allarghiamo, allarghiamo l'orizzonte, è il mondo. Allora la scuola ci servirà assolutamente come strumento e lo dobbiamo sfruttare. Perché pensateci, se non ci fosse la scuola come impareremmo, che ne so, la filosofia, la fisica, materie difficili? Beh, compreremmo un libro che ne parla e cercheremo una persona più esperta di noi che ne sa qualcosa. Ecco il professore. E allora ragazzi, adesso vi dirò una cosa che sembra stupida, però pendete dalle labbra di ogni vostro singolo professore. Pendete dalle labbra di ogni vostro singolo professore, anche se di tutto quello che dirà a voi servirà o vi interesserà una sola parola. Ma quella parola non perdetevela, perché non ricapita più. È un'occasione unica. Vi ho annoiato abbastanza, vi voglio raccontare un'ultima storia. Ci fu una rivoluzione di fatto, 1961. Ci fu una rivoluzione di fatto che fu guardata da tutti, ma non dal punto di vista che voglio sottolineare io, ne parla Nanni, è un sociologo. Nel 1961, per la prima volta, l'uomo andò nello spazio e vide il suo habitat naturale da un'altra prospettiva. Yuri Gagarin. Si fece questo volo spaziale, bellissimo, e vide la terra dove ha sempre abitato da fuori, dallo spazio. E cosa gli sembrò? Una piccola, insignificante arancia. Un'arancia blu. Ora, il problema è che spesso noi non riusciamo che a vedere quello spicchio, quella parte di spicchio su cui noi ci troviamo in quel momento, senza renderci conto che ci stanno tutti gli altri. E allora ragazzi, guardatevi attorno, rendetevi conto di tutti gli spicchi che abbiamo, e poi create, portate del vostro. A questo punto possiamo creare, sì, condividiamo idee, facciamoci taccuini, portiamo innovazioni, portiamo quello che abbiamo in testa noi, però sempre ricordandoci questa grande visione. E allora, ci siamo conosciuti con una domanda esistenziale, dove stiamo andando, qual è il senso della vita, vi voglio lasciare con una domanda di cucina. Preferirete lo spicchio o l'arancia intera? Grazie. 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 Grazie.